Bella ragazzi sono BeWolfers e sono tornati alle mini recensioni. Oggi parleremo di Forgone. Il titolo del giorno è Metroidvania 2D che potrebbe ricordare titoli come l'apprezzato Dead Cells pur riuscendo a mantenere un'anima tutta sua. In Forgone vestiremo i panni di una guardiana, un soldato di una nazione particolarmente avanzata dal punto di vista tecnologico che ha subito però una violente invasione da parte di una nazione rivale. Nel difendere il nostro territorio dobbiamo far breccia oltre che tra i soldati che hanno ormai occupato la nostra terra anche attraverso quel sottobosco di complotti e sotterfugi tipici della politica di guerra. Dopo un rapido tutorial partiremo alla riconquista del nostro paese da un hub centrale caratterizzato dai soliti vendor che ci permetteranno di potenziare l'equipaggiamento del nostro personaggio tramite la spesa di oro e diamanti, entrambi reperibili abbattendo i nemici. Durante l'esplorazione avremo modo di imbattere cinare che non potremo raggiungere se non dopo il ritrovamento di particolari oggetti che aumenteranno le abilità della nostra protagonista. Inoltre guzzando la vista potremo individuare passaggi segreti ben occultati che ci consentiranno di acquisire equipaggiamenti davvero potenti e che ovviamente ci faciliteranno la vita durante le fight che ci attendono lunghi vari livelli che compongono le aree di gioco condite dal classico boss a guardia della zona successiva. Esteticamente parlando For Gone è un titolo che colpisce per direzione artistica, giochi di luci ed animazioni fluide ben realizzate. Ottimo livello anche per quel che concede il comparto sonoro, tanto ispirato quanto adatto all'azione a schermo. Il gameplay offerto è dannatamente divertente, le ore si accumuleranno senza nemmeno che ve ne rendiate conto e grazie ad un'ottima distribuzione dei checkpoint riesce a permettere una buona esplorazione anche a chi ha solo una mezz'oretta da dedicare al titolo. Le aree a disposizione, sia range o che me lì, sono limitate ma ben caratterizzate, ognuna ha la sua animazione e si adatta allo stile di combattimento del giocatore di turno. Semplice ma ben realizzato anche il sistema di potenziamento del personaggio, che permette quel minimo di personalizzazione senza mai scendere troppo nel dettaglio, risultando particolarmente adatto a chi ama un minimo di libertà decisionale senza la necessità della calcolatrice o di risorse esterne per studiare build più efficaci. Il punto debole del titolo è nella mancanza di carattere, si lascia giocare con piacere ma non risulta mai avere quella personalità che gli permetterebbe di emergere considerando i tanti rivali di settore finendo per essi un'esperienza gradevole ma non memorabile. For Gone è un gioco divertente e adatto agli amanti del genere, tuttavia è molto lontano dall'essere considerato un capolavoro, una di quelle pietre miliari che verranno ricordate negli anni a venire. Sviluppato da ragazze della Big Blue Bubble e disponibile sull'Epic Store a 24 euro e 99 centesimi, mi sento di consigliarlo a chi cerca un gioco ben realizzato, leggero e adatto per passare qualche pomeriggio. Non mi rimane altro da dire su questo titolo, spero che il video vi sia piaciuto e sia così lasciato un like, commentato e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per non perdervi alcun video. Grazie e alla prossima! Ciao!